Con Alessandro Frattini al termine di Fulliberta Scantù, gioiella gioia del Colle, una bella vittoria e gran matatore anche te nel terzo set. Sì, una bellissima vittoria, ci voleva perché non abbiamo passato una settimana facile con vari infortuni, però eravamo molto carichi e motivati di arrivare qui in casa nostra davanti al nostro bellissimo pubblico e finalmente di portare a casa questi tre punti. Siamo veramente molto contenti, sapevamo che era difficile anche perché loro hanno una buona squadra che giocano molto veloce, però siamo riusciti a battere bene, a tenerle a muro e abbiamo fatto un'attiva partita. Grazie Alessandro. Grazie a voi, ciao. Ciao.